Scommetto cari amici che avrete sentito parlare, magari per puro caso, di questo benedetto Fantasarremo. Quindi, cosa si sono inventati? Molta gente non sa ancora che cosa significa, come sono le regole e i baudi. Cosa sono i baudi? E allora il Fantasarremo innanzitutto cominciamo con il dire che è un fantasy game, quindi totalmente inventato ma dedicato al Festival di Sanremo. Quindi troveremo questo gioco soltanto abbinato a questo programma qui. Il regolamento prevede che ogni giocatore abbia a disposizione 100 baudi, che incredibile è la moneta, per formare la propria squadra con 5 cantanti. Le iscrizioni sono aperte fino al 6 di febbraio, ma attenzione siccome è l'ultimo giorno, capiamo un attimino come funziona il tutto. Ci sono però, attenzione, dei pro e dei contro, dei bonus e dei malus, ma alla fine possiamo dire che il Goku corre di pari passi come esattamente il fantacalcio. Il numero di squadre create, a partire dal 27 dicembre, ha già superato il milione, un risultato di gran lunga superiore a quello dell'anno scorso quando si sono registrati solo mezzo milione di utenti e più di 56.000 leghe. Il regolamento, consultabile sull'app ufficiale, consente a chiunque voglia partecipare di iscriversi entro il 6 febbraio e creare la propria squadra. Ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi per acquistare 5 artisti. È obbligatorio scegliere 5 cantanti e, tra questi, decidere chi sarà il capitano della squadra. Tante le novità per quanto riguarda i bonus e i malus, che sottrarranno o aggiungeranno punti alle squadre delineando così una classifica che verrà aggiornata dopo ogni serata. Per esempio, indossare gli occhiali da sole sul palco quest'anno è un bonus mentre dire, Fanta Sanremo, sarà un malus. Tornano anche alcuni tormentoni dell'anno scorso, come Papalina, il cui nome è ispirato al gestore del bar di Porto Sant'Elpidio dove si ritrovano gli inventori del gioco. Novità assoluta è la nuova sigla, ideata dagli Eugenio in Via di Gioia. Dopo il grande successo dell'anno scorso sono aumentati anche gli sponsor disposti a sostenere il gioco. A partire da martedì 27 dicembre, alle ore 12, sono aperte le iscrizioni al Fanta Sanremo che si chiuderanno il 6 febbraio alle 23.59. È possibile iscriversi sul sito del Fanta Sanremo cliccando su Gioca. A questo punto sarà possibile iscriversi ad una lega già esistente oppure crearne una nuova. È il momento di formare la propria squadra, di 5 artisti, scegliendo chi tra questi sarà il capitano. Ogni squadra ha a disposizione 100 baudi, ovvero la moneta virtuale con cui si compiono gli acquisti all'interno del gioco. Vince la squadra che è riuscita a totalizzare più punti. Cosa si vince? Come specificato sul sito ufficiale del gioco? La gloria è eterna. Volete il regolamento ufficiale? Eccolo qua. Ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi 1 per acquistare 5 degli artisti in gara. È obbligatorio schierare una squadra di 5 artisti e nominare capitano 1 di loro. È possibile iscrivere la squadra entro lunedì 6 febbraio 2023 alle ore 23.59. I bonus e i malus per ogni artista verranno attribuiti in base seguente regolamento, qualora la valutazione. Di un bonus o di un malus dovesse essere soggettiva, l'ultima parola spetterà alla FIF2 che valuterà l'accaduto. In modo professionale, incondizionato e obiettivo. L'assegnazione dei bonus e dei malus si applica agli artisti a partire dal primo minuto del Festival di Sanremo. Fino al termine della diretta della serata finale, tutto ciò che avviene prima e dopo il Festival non verrà. Conteggiato. I bonus e i malus dell'ultima puntata della artista nominato capitano verranno raddoppiati. L'artista che indosserà il braccialetto jolly raddoppierà i punti ottenuti dal suo piazzamento in classifica o annullerà i malus derivanti da esso. Il braccialetto può essere utilizzato una sola volta in una qualsiasi delle. Serate del Festival a eccezione della finale. Qualora il braccialetto venisse indossato nella prima serata, saranno applicati gli effetti del jolly alla classifica della seconda serata. Quando non espressamente specificato i bonus e i malus sono riferiti ad azioni compiute dall'artista o eventi. Che lo coinvolgono sul palco e, o in platea del Teatro Ariston durante le puntate del Festival. Nella serata delle cover sarà considerato valido, al fine dell'assegnazione di bonus e malus relativi all'artista. In gara, anche tutto ciò che riguarda gli eventuali ospiti annunciati che si esibiranno insieme all'artista stesso. Nel caso in cui un artista in gara non potesse esibirsi per qualsiasi motivazione e venga quindi utilizzata. Un'esibizione pre-registrata valida ai fini della gara, vedi i rama Sanremo 2021, verranno comunque assegnati bonus e malus basandosi su tale registrazione. Vince chi, terminata l'ultima puntata di Sanremo, ha totalizzato il maggior numero di punti. Il regolamento potrà subire variazioni fino a lunedì 6 febbraio 2023 alle ore 23.59 e, qualora ce ne fosse. Bisogno potrà essere soggetto a interpretazioni e o chiarimenti da parte della FIF anche durante la settimana del Festival. Per quanto riguarda l'ultima puntata, poi, i bonus e i malus dell'artista che si ha come capitano verranno raddoppiati. Quando non è specificato, ogni bonus e malus è da riferirsi ad azioni compiute dall'artista o ad eventi che lo coinvolgono sul palco o anche in platea. Inoltre, durante la serata della cover è da considerarsi passibile di bonus o malus tutto ciò che riguarda anche l'artista che si esibisce con il cantante in gara. Per scoprire quanti altri bonus e malus sono previsti per quest'anno, basterà andare sul sito ufficiale del gioco, intanto qui ci sono alcuni dei più gettonati e che incidono significativamente sul punteggio di ogni giocatore. Rottura o strappo involontari dell'abito uguale meno 20. Inciampo o caduta durante l'esibizione uguale meno 20. L'artista rompe volontariamente strumenti uguale meno 25. Caduta o spostamento vistoso della dentiera uguale meno 25. Caduta del parrucchino o spostamento del riporto uguale meno 25. Litiga con il pubblico uguale meno 25. Fischi di disapprovazione del pubblico dell'Ariston chiaramente udibili uguale meno 30. Ogni cantante in gara, come anticipato, ha le sue quotazioni e per formare le squadre ogni iscritto al gioco dovrà valutare come spendere i suoi 100 baudi, attivi dal momento dell'esibizione. Qui, di seguito, le quotazioni degli artisti che saliranno sul palco dell'Ariston quest'anno. Anna Oxa, 18 baudi. Ariete, 21 baudi. Articolo 31, 21 baudi. Comacose, 20 baudi. Elodie, 24 baudi. Gianluca Grignani, 20 baudi. Giorgia, 25 baudi. I Cugini di Campagna, 21 baudi. Lazza, 22 baudi. Lada, 21 baudi. Leo Gasman, 18 baudi. Levante, 20 baudi. Madame, 22 baudi. Mara Sattei, 21 baudi. Marco Mengoni, 26 baudi. Modà, 18 baudi. MR, Rain, 19 baudi. Paola Endchiara, 22 baudi. Rosa Ananai, 22 baudi. Ultimo, 27 baudi. Gianmaria, 17 baudi. Shari, 17 baudi. Collazio, 16 baudi. Olli, 16 baudi. Setu, 16 baudi. Will, 16 baudi. L'obiettivo del gioco è creare una squadra equilibrata. Per ottimizzare i baudi che abbiamo a disposizione sarà necessario scegliere solo uno dei quattro top list, che ricoprirà anche il ruolo di capitano, due scommesse dal valore intermedio e due giovani per completare la squadra. È obbligatorio scegliere cinque artisti ma non è necessario utilizzare tutti i baudi. Per sapere quanti punti si accumulano durante il festival è necessario stare attenti ad ogni puntata dello show, dal momento che vengono assegnati dall'inizio della prima puntata e ogni mattina la classifica si aggiorna con i punti accumulati nella serata precedente. Oltre ai cantanti in gara, l'assegnazione dei punti varia anche a seconda dei cantanti che si presenteranno sul palco durante la serata dedicata alle cover. Che dirvi, per questo video è tutto, buon Fanta Sanremo a tutti e ci sentiremo ai prossimi video che riguarderanno il festival di Sanremo.